Permitimi, per me è il tópico di Awe, con la Covid, mentre che era papi di crisi di Covid, posso annunciare che il entrante Awe, il 12 di settembre, la nostra deescalazione è la fase di crisi e la nostra baia è la fase di rehabilitazione, che nel hollandese si chiama il herstel. La fase di herstel è che lo dura il 31 di dicembre di Aiachi. C'è quello che dice anche, è che abbiamo notato che tra i maschi e il decreto, non è ministeriale regolini, è MR, basare per calamità, vero ordine, è lei di calamità, e la nostra trecchia è l'escalazione entrante Awe, il 12 di settembre del 2022, nel quale ha decreto la Covid come una crisi. La rehabilitazione è parte della crisi, perché mi è chiaro che è enfatico che non è ancora recuperato completamente, non è 100%, però per lo che non c'è con la razza, non c'è sempre la razza di uso di decreto, basare per la legge di calamità. C'è due aspetti che ci siamo preoccupi ancora, con la parte di essa qui, c'è effetto non socio-economico, con la crisi di Covid a ocasionare, che ci siamo ancora sentiti, e la parte di salute mental, con la parte che ci siamo preoccupi ancora. C'è delicato e non c'è la nostra attenzione, e non c'è più attenzione di enfasi. Questa è una situazione. Test, isolare e quarantena non è l'obligazione legal, ma, sin embargo, non è la recomendazione per ora sentire malo il test, se il test è positivo, è isolare il mese e per la famiglia di avere conto di quarantena. Non è in controllo, ma, non è in controllo, ma, anche, se non è in controllo, non è in controllo, durante la isolazione di quarantena, ma, non è in controllo, ma, non è in controllo, ma, non è in controllo, Covid accosa, hopi, perdida e hopi, dolor, e ancora non ci sono ancora di recuperare di Ture Sakinan.